Ciao, oggi siamo qui per vedere cosa ci ha mandato Sena. Ecco il loro interfono bluut. Dopo la sigla, ne pagheremo. Vediamo ora le caratteristiche del 20S, tengo. Design accattivante, con antenna a pinna di squalo fissa. Controllo a manopola, che lo rende perfetto anche con i guanti pesanti. L'Advanced Noise Control ci aiuterà ad evitare che il rumore del vento interferisca con l'audio in entrata. La tecnologia Multitasking ci consentirà di conversare mentre ascoltiamo musica o il navigatore GPS. Pensa, possiamo anche configurare i nostri dispositivi Bluetooth e attivare i comandi vocali. Tempo di conversazione è 13 ore, mi toccherà sapere sentire tutto il giorno. Fortuna che ha la funzione di esclusione del passeggero. Sempre carino tu, eh? Dai, dai che scherzo. Questa volta con i casti chiusi, il telefono è indispensabile. Sia per ascoltare il GPS che per poter parlare con te. Poco, eh? Sì, sì, poco poco. E comunque, adesso nei prossimi giorni li monterai sui nostri caschi, così poi li andiamo a provare. Certo. Intanto vi salutiamo con una frase presa dal sito di Sena. È una frase in cui ci riconosciamo moltissimo. Con i nostri prodotti vogliamo ispirarti a sfidare i limiti della routine e raggiungere la più grande avventura della tua vita. E in questo nuovo viaggio superare i nostri limiti sarà uno dei nostri obiettivi. Seguiteci! Grazie a tutti.